Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video di Pokémon Oggi porteremo un altro mazzo Molto low budget Quanto l'abbiamo pagato i bustini? Circa una decina? 15 15 al mazzo Lo faccio vedere, vada Il mazzo è codesto Come l'hai chiamato? Sto a giro? Notare che ci sono tanti Pokémon buio Quindi non avevo idea Visto che in questa stanza Quando non registriamo è tanto buio Allora, il mazzo si basa ovviamente su Spiritomb Cosa fa? Spiritomb ha l'abilità di infliggersi 10 danni Che sembra una stranzata Ma con un'energia di infliggersi 10 danni Più 30 per ogni segnalino danno Quindi ogni 10 danni che ha Spiritomb E un bel buio in infliggersi 30 in più Con un'energia buio Ovviamente Per non giocare solo lui E per non rischiare Avendo anche solo 60 di vita Giochiamo Umbreon Umbreon fa 30 danni E se un Pokémon è stato messo a capo Il mio Pokémon nel turno primo infliggerà 120 Quindi 90 danni in più Essendo che Spiritomb ha solo 60 di vita Che poi si abbassa È molto probabile che Umbreon infligga 120 danni Con ovviamente Rividi solo è una Che si evolve Dandogli un'energia E Rapsul Che fa aumentare i costi di ritirata Deg'avversario di uno Ah così rischia di ritirare almeno Esatto Poi Mew Per prevenire danni Da grande panchina È contro diciamo Il mazzo di Wisin Che gira tanto Perché se no fa danno Sì E quindi evita di far quella cosa lì Quindi i danni infliggiti I miei Pokémon in panchina Non Cioè i miei Pokémon non vengono Dato che già te ne infliggi da soli Esatto Poi c'è vabbè Marshalo per ciclare la mano I Veltra sempre come Modo per un frizzino danni E poi l'effetto primario di Veltra Perché può scartare Un'energia speciale Quindi tutti Anche i Wisin Soprattutto i Wisin Quelli che danno Bifestino sono quelli Sì Poi ha pochi gear Ti fa prendere una carta Ti fa guardare Le prime sette carte Ti fa prendere una carta aiuto Il fischietto Ha due opzioni O per scartare una carta O per prendere una carta aiuto Arbitro Dal cimitero Quindi lui Chi è simile al Marshalo Però ti fa Cioè È un controllo È una carta aiuto È una contro Se ci sono quei matti Che si preparano già la comma in mano Tu rischi di prenderla E bloccarlo Hai sia Marshalo che quella Perché è Una è un aiuto E una è un collo Fai mischiare Il caldo che è in mano E a tutti e due i giocatori Ne infischo un quarto Rimini il ball Perché abbiamo tutti I Pokémon base Tranne Umbreon E il Marshalo No Marshalo è un Pokémon base Sì però tu non lo giocherai mai Da Mirrorball Vabbè sì Ok Magari Per mischiare il Pokémon Nel mazzo O in mano Comunque Comunicazione Pokémon Perché se magari Abbiamo un Pokémon in mano Di cui non abbiamo bisogno E uno nel mazzo Di cui abbiamo bisogno Con questo risultiamo Il Brock Amici Ci fa mischiare Spirito in questo caso In questo caso O un altro Cosa Lui rischia Che venendo messo Capo Tu Lui prende zero Perché prende una carta E poi il solito trucco Che Sendo che è una carta prisma Devi spaccarla E poi il problema è che una volta Il piccolo difetto è che se tu hai bisogno di carta in mano Questo ogni volta che un giocatore gioco una carta aiuto o strumento alla mano Non ha effetto Cioè su questa carta non ha effetto Quindi gli spazza campo Il Marshadow No Marshadow Non specifica Comunque gli spazza campo Non funzionano su questa carta Quindi Poi Esatto Con tutti i GX Per fargli danno A ogni fine tu Dato che tu non li giochi Come Camilla Che ti fai mischiare i carte per scanne 6 Guzman Guzman Che ti fa switchare Il Pokémon del tuo avversario Dalla panchina Cioè tu uscire un Pokémon Dalla panchina del tuo avversario Diventa Pokémon attivo E tu switchi un tuo Pokémon Arbitro l'abbiamo detto Riria ti fa pescare fino a 6 carte in mano C'è il tuo primo turno fino a 8 Professor Kukui Fa infliggere 20 danni in più E pesco due carte Quindi un buono riciclo del match E la cintura serve apposta Per potenziare ancora di più l'attacco E se il Pokémon ha consegnato questa cintura Ha 30 PS o rimanenti meno Quindi Usiamo Tre volte l'effetto di Spiritum Quindi rimane a 30 PS Infligge Questo Spiritum infligge 130 più 190 Senza contare i vari buff Di Kukui E poi le energie Alcobaleno Serve solo per riempiriggerti Più velocemente Il danno Cioè Se tu assegni questa spiritum Spiritum subisce 10 danni Quindi Si aumenta l'attacco E può attaccare Perché questa vai come Energia di qualsiasi colore E che nel giuglio Esatto Questa è il mazzo Proviamo Vediamo si va Speriamo Intanto dell'attesa Diremo che facciamo il torneo Da Con un youtuber famoso Il 4 Iniziamo Quindi Stato da vedere Ci vedete A giocare con Non quale mazzo Ancora decideremo quale Il canale youtube Comunque lo lasciamo qua in descrizione Perché giustamente Ci sembrano Ringraziarlo Della sua possibilità Che ci ha dato E ricordati che qua Devi sempre Qui puoi anche partire per primo L'altro mazzo no Oggi non vogliamo vedere poche Ma oddio mio Ah perché vi spiego Abbiamo buttato Un torneo Nel cesso Perché era la prima partita A uno Gli è venuta una mano di dio E noi Non avevamo un cazzo In mano Detto come va detto E quindi Abbiamo Questa è stata La seconda Sembra che siamo Tilki Ma questa è stata La seconda opzione L'agio di Calle e Bustine Siamo da capo ancora Ce ne sento Eh? Ce ne sento No Allora Perché ambanda Io metterai l'energia Arcobaleno su di lui Effetto Già Infine Un poco di danno Già inizia a finire poco E poi O vai Voglio adesso Ceriria Ceriria Quindi puoi andare O di Lilia O di No perché Comunque Le carte Mi piacciono Di garbano Le garbano Esatto Proprio quello che stavo cercando Un altro spiritum dietro Pensavo di Darkovia Per prendere Ah un Umbreon Hai ragione Eevee Sì Eevee Esatto Perché Eevee ha l'abilità Che se noi assegniamo L'energia di un tipo Possiamo cercare Ed evolvere Su Eevee Un pokemon di quel tipo Prossimo turno Lo fai evolvere Insomma Esatto E basta Puoi già attaccare Ma non posso Perché ha iniziato Io quindi Vada Sì Le cinture ricordati Sempre spirito Sempre spirito Ovviamente Ricordatevi E questo È un mazzo Lo budget Tranne Due carte Che è Un Umbreon Che costa comunque Due buste E la prisma La prisma Si chiamare La prisma Una busta Sì Ho visto C'è Fai conto che ho trovato Ancora fare Un grasso affare Ho trovato Tipo tutte le carte prisma Stadio Stadio Scusi prisma Che ha poco Quindi Intanto lei si continua A infliggiare danno E spirito E adesso vedrete L'attacco che fa Anche con l'altro principale Quindi questa danno Infliggerà Come vi ho detto prima La bellezza di 190 danni Con un'energia Con un'energia Ragazzi Una O No Non ha senso Attiverai Camilla Non ha senso Passiamo giorno Assegniamo l'energia O un buio A Ivi Ovviamente funziona Anche con L'arcabalena No Non funziona Con l'arcabalena Già testata Deve essere base L'energia Deve essere base Leggi Una ricarta Energia base Scusate Eroi mio Niente Succede Pisco uno Ho fatto una modifica Dalla lista Che ho visto Comunque Questo Teniamo lì E spirito Ma va a infligere La bellezza Di PAM 160 danni Cioè con un'energia Bravo La sottolinea Bella quella Va bene No è bello Se peschiamo Allo stadio Siamo anche favoriti Così non Dobbiamo Vediamo Ok C'è un'energia Potrebbe Ah sì Questi Questi Sono quelli Che sperano Nel secondo attacco Che riesca a testa Perché Se riesce a testa I suoi pokémon Non Sono immuni Sono immuni Da tutto Dagli effetti Dei pokémon Quindi sia da Danni Che da Confusione No il bello Però tu avendo Guzman Puoi svizzagliarlo In teoria Sì Però se lui ha Un'energia Mi muore Se non ce l'ha Benvengo Non ce l'ha Non ce l'ha Non ce l'ha Quindi fa 20 da 50 Mi sono preso qualcosa Ah per l'effetto Forse Passivo Sì Quindi vabbè Giocchi il secondo Ah Gli vado a shottare Però Femeggiti 10 danni Ricordo Perché non l'hai fatto Puoi attivare anche Cucchi per pescare O rimiscare la mano Quindi lei Intanto prepariamo l'altro E il bello di Questo mazzo Che Perché Vabbè C'è un po' che non avevo visto Amen Anche Quello che è lì E facciamo altri danni Accumulo dispettoso E poi ti conviene Camilla O No Camilla Si dobbiamo avere energia Tanto non è messa l'energia A questo turno Non è messa Non mi sa lui Vabbè Fallo evolvere normale Ah Senza usare l'energia Perfetto E un giù un altro Che c'è magari Nel prossimo turno Che vediamo anche lui Ma ho camici Riprende Camilla E l'altra Che è molto buona Ho fatto delle modifiche Ti stavo dicendo Perché ho un personalista E ho voluto aggiungerti Gli arbitro Perché ho detto 160 Dato che arbitro Secondo me è un fortissimo Come carta Si è forte molto Perché soprattutto Quelli che pescano tantissimo Vanno in loop Arrivi Ci sono politici Alizar Che pescano Se ti gira bene Quasi tutto il mazzo Se ti ritivi quella Lui ci si mette a piangere Ah quella è utilissima Contro di noi Non abbiamo Non abbiamo Non abbiamo Tenuto il rito Di far subito vittoria Ah Magari quitta No Però era subito Era il primo turno Non va bene Non va bene Dove Ha visto i pokemon Non GX Ha detto Un cazzo Questo forse È roba Ah no Ah vero Poi ancora Bello che metti Un connetto blast Ci faccio 190 Sì Adesso si Guarda Guarda che implode Guarda che implode Cioè Delle spiriti Con un'energia 190 ragazzi Ma si è Che sono molto fragili Fortunatamente Non hanno Solo una O zero Grande Quindi La stadia La stadia In strommazza È fondamentale Perché Se ti avvi Di la stadia Lui non te la rimuove E hai praticamente vinto Perché Tutti i pokemon No Il problema È che ricorda Che lui devi dare l'energia Se no Non vale Vale energia Non in colore Ma in base Sì ok Ma Vabbè Cioè Lo trovo un modo Di dargli un'energia Sì sì Ovviamente O comunque Anche se metto Dentro unberon Sì sì È il concetto Che è Per fare l'attacco Consumi un'energia Basta Quindi hai top Di energia E una Comunque Non ti ho Niente Una da dare qua Sì sì No Non mi sono infatti 10 danni su di cui Prima Con 5G Con 5G Con 5G 5 Fischietto Io non mi Figgerei neanche l'anno Tanto ormai Ho lasciato tutti Quindi No Preparati quelli dopo Eh Faccio così E poi nel momento in cui Ti perdi uno Fai l'energia Fai l'energia Su Livi Su Livi Su Livi Così Pensavo forse di qua Stai calmo Ho guardato il microfono Scusate Non volevo Su Livi Seconda Evoluzione Che simpatica Dammi il stadio Grazie Bella Vuoi preparare un altro Umbro? Ma così costano di più Il ritiro Il pokemon base costano di più Il ritiro Io decido Non mi figlio D'anni perché 190 Abbiamo visto che basta Un bel di pokemon In questo momento Si In questo momento Se voi mettesse dentro Incineroar O Qualcuno per infligire Mi 20 danni Che non è in questo modo Anche se lui morisse No Invece Deva Base Si sta confondendo Qua la Livi Deve essere assegnato Nel giabù Ah Deve essere assegnato Nel giabù Scusate Oggi Ma che non Questo Personalmente L'ho costruito io Eh? L'ho costruito io Ho visto la lista Personalmente Questo mazzo L'ha costruito tutto right Gli altri più o meno Io ci Ci siamo andati No Le foto di più te La lista l'hai trovata te Lista ho fatta Ok Ah quella utilissima Contro di noi Cioè ha delle carte Utili La protagonia mia Si si immagina Puoi giocare Anche un numero esatto Che fai 120 120 120 120 Martin Garrix Si Boh Mi direi Giusto per non dargli Primi dopo Buonissimo Stando ormai Non c'è più La stadia Nemesi 120 Cioè è al principio Di quel mazzo Non mi ricordo Non so come si chiama Quello lì Che lui si auto infligge D'anni Ce l'abbiamo anche Il tipino Quello che sembrano Se vuoi una nostra No no Scusate il gesto Una sogna Stavo guardando Malissimo Poi la sogna Mi hai guardato Che cazzo sta facendo È una sogna Bello Quindi dai Non pensate male Le sogna sono così Da noi cosa sono Scusate Sono nervosi Cosa mi fa dire Dobbiamo essere Io non ho detto Niente Però è pensato Cazzo la vaga Banda scelta Ci infine più danni Poglioni Ah non abbiamo Poglioni Poglioni Vaglia mossa Coglione Adesso Ritiri Giacca l'altro Spito Fatti dei danni A carmo Si faccia Oh Fai down Down E così Ti svevo un segreto Non avevo aspettative Su sto mazzo È vero Perché Così Così Sbusti Sbusti Abbiamo finito pochi anni Più degli altri Porca troppa Ah si perché degli altri Figano 230 230 E poi la gente Qui Ah si è imposto così Su una partita Sì oggi si Perché Abbiamo molte sorprese E quindi Dobbiamo preparare Quindi qui Troveremo Iquaza Così ci monteremo Anche il mazzo Iquaza Se lo troviamo Giuro che te lo monto Lo dico Se troviamo In quale te lo monto Perché un mazzo Che vorrei anch'io Solo montano Che schifo Va bene Noi vi salutiamo A un prossimo Torneo Forse Torneo Vediamo quando si organizza Perché Se non incontriamo Iquaza Il saldito Uno che c'è un po' Nel culo Perché Le mettiamo diretta Il torneo E comunque Mettiamo il link Dove parteciremo Di Rickbrox Rickbrox E lo ringraziamo Di questa possibilità E tutto qua Ciao La busta C'è questa comunque Niente Non ho capito Non ho capito Ciao 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 ragazzi Ciao ciao